Cosa è l'atresia polmonare? L'atresia polmonare ha un difetto cardiaco congenito in cui la valvola polmonare non riesce a formarsi correttamente e blocca completamente il passaggio del sangue ai polmoni. La funzione primaria della valvola polmonare è quella di restituire il sangue ai polmoni per raccogliere l'ossigeno. Quando la valvola è così malformata da non fornire alcun passaggio alle arterie polmonari più piccole, l'insufficienza cardiaca è imminente se non viene affrontata chirurgicamente. Spesso, atresia polmonare è accompagnata da altri difetti. Una variante di tetralogia di Fallot si presenta spesso con atresia polmonare. In altri casi, la formazione della valvola polmonare e il ventricolo destro sono entrambi interessati. Questo grave, sebbene raro insieme di difetti, chiamato sindrome del cuore destro ipoplastica, non può essere corretto, ma è affrontato sia attraverso gli interventi chirurgici a fasi del fontanno attraverso il trapianto. Se da solo o accompagnato da altri difetti, la teresia polmonare deve essere trattata durante i primi giorni di vita di un bambino. La diagnosi, se non effettuata in fase prenatale, viene di solito eseguita una volta nato il bambino, quando il neonato apparirà intensamente cianotico o blu. Sebbene tutti i bambini appaiano in qualche modo blu subito dopo il parto, diventano più rosa man mano che il sangue ossigenato fluisce attraverso il loro sistema. Un bambino con atresia polmonare, tuttavia, non diventa più roseo, ma può effettivamente diventare ancora più pallido e più cianotico in pochi minuti. Assistere alle ostetriche o ad altro personale medico noterà la cianosi. Se necessario, il bambino viene trasferito in una struttura con un reparto di cardiologia e chirurgia pediatrica per un trattamento immediato. I genitori più fortunati possono avere una diagnosi prenatale di atresia polmonare tramite ultrasuoni o possono dare alla luce i loro figli in un ospedale con un reparto di cardiologia, quindi il trasferimento non è necessario. In entrambi i casi, la diagnosi sarà confermata poco dopo la nascita con un ecocardiogramma fetale, un ecogramma del cuore. Prima dell'intervento, al bambino viene spesso somministrato un farmaco per via endovenosa, la prostaglandina E, che aiuta a impedire la chiusura del dotto. Questo piccolo foro nella parete del setto atriale si chiude normalmente entro poche ore dalla nascita. Crea un passaggio per il sangue ossigenato e non ossigenato da miscelare, consentendo così al sangue ossigenato di raggiungere il corpo di un bambino con atresia polmonare. La prostaglandina può funzionare solo per alcuni giorni prima che si verifichi un'insufficienza cardiaca. Il prossimo passo per molti bambini con atresia polmonare è chirurgico. I chirurghi cardiotoracici eseguono uno schuntibleilactausig, BT, che sostituisce il ductus del brevetto. Lo schunt è un piccolo tubo che consente la miscelazione del sangue in modo che i tessuti possano ricevere sangue ricco di ossigeno. Anche con lo schunt, i livelli di saturazione di ossigeno di un bambino affetto sono spesso compresi tra l'80-85%, rispetto al tasso normale del 96-100%. Sebbene nella maggior parte delle persone, una bassa percentuale di ossigeno sarebbe fatale, questo non è il caso di un bambino con uno schuntibiti. I lattanti e i bambini piccoli possono sopravvivere con questa ridotta ossigenazione, anche se possono influenzare la crescita, causare l'artralgiamento delle estremità e portare a un'eventuale insufficienza cardiaca. Lo schuntibiti è solo un primo passo, tuttavia, utilizzato per dare a un bambino il tempo di crescere prima di tentare la riparazione, quando possibile. Nella tetralogia di Fallot con atresia polmonare, i chirurghi possono scegliere di rinunciare allo schunte e riparare i difetti tutti in una volta, inclusa la sostituzione della valvola polmonare con una valvola suina, bovina o donatrice. È considerato standard sostituire la valvola polmonare ogni 8-10 anni, poiché il bambino supererà la valvola. Nel cuore destro ipoplastico con atresia polmonare, la procedura di Fontan viene eseguita in diverse operazioni in scena durante i primi anni di vita. Nella fase finale, la valvola polmonare malformata viene semplicemente rimossa il moncone e cucito nel cuore. Per prevenire la formazione di coaguli di sangue, i bambini che hanno avuto la sostituzione della valvola o il Fontan devono assumere aspirina giornaliera a basse dosi. Quando l'atresia polmonare si presenta da sola, i chirurghi eseguono una sostituzione della valvola. Tuttavia, l'atresia polmonare di per sé è abbastanza rara. Le sostituzioni delle valvole devono essere monitorate e sostituite man mano che il bambino cresce. Una volta completata la riparazione chirurgica, il bambino richiede un monitoraggio annuale del cuore. Tuttavia, anche con la presenza di cuore destro ipoplastico, le tecniche chirurgiche forniscono al bambino un buon risultato, anche se il trapianto è necessario 15-30 anni dopo l'intervento di Fontan. Per il bambino con atresia polmonare non complicata, la prospettiva è eccellente, anche se saranno necessari interventi futuri per sostituire le valvole troppo grandi.